Sono tornati i cuori di cioccolato contro le malattie genetiche rare con l'avvio della Maratona di Solidarietà della Fondazione Teleton e la consueta raccolta fondi Natalizia. Questa è un'iniziativa che coinvolge tutti noi cittadini che in questo momento sostengono la ricerca con tutto il cuore, acquistando il cuore di cioccolato. Quindi bisogna essere tanti, speriamo, nell'acquisto di questo cuore perché faccio anche da un po' da monito, le istituzioni si rendano conto che i cittadini devolgono già tanto per la ricerca e quindi anche le istituzioni continuino ad investire nella ricerca per trovare soluzioni a queste malattie. Le malattie che in questo momento sono sotto ricerca e sotto studi sono oltre 400, sono malattie rare e meno rare, come per esempio anche la distrofia muscolare con la quale è iniziata la ricerca di Teleton nel lontano 1966 negli Stati Uniti per l'iniziativa di Jerry Lewis che è venuto a mancare proprio quest'anno.